Anche Salerno risponde con un flash mob della magistratura onoraria in segno di solidarietà allo sciopero della fame dei colleghi di Palermo. È iniziata a mezzogiorno dinanzi al Palazzo di Giustizia di Salerno la manifestazione spontanea ormai su base nazionale organizzata per richiedere una maggiore tutela e un miglioramento delle condizioni retributive della categoria. Hanno cultura giuridica e esperienza nel derimere le controversie. Lavorano per la giustizia ma non hanno una stabilità. Il maltempo non ha fermato la loro protesta in un momento in cui la crisi si fa sentire in tutto il settore della giustizia. La toga, una rosa rossa, il codice penale in mano per esprimere il disagio di un'intera categoria professionale tanto importante nell'amministrazione della giustizia quanto precaria. Prestano servizio da oltre 20 anni gestendo il 60% del carico civile di primo grado e circa il 90% del carico penale. Nessuna garanzia di continuità nelle funzioni, nessuna retribuzione fissa, nessuna tutela previdenziale ed assistenziale. Abbiamo pensato anche noi di pubblicizzare un poco e di dare la solidarietà alle colleghe di Palermo. La situazione della magistratura onoraria è ormai sotto gli occhi di tutti. I magistrati onorari giudicano circa la metà dei procedimenti civili e penali. Noi siamo da più di 20 anni senza alcun riconoscimento né retributivo né previdenziale né assistenziale. Ci sono state una serie di di proroghe negli incarichi. Oramai la nostra attività è quasi esclusivamente quella di amministrare la giustizia e di dare delle risposte al cittadino in tempi brevi. Questa è una questione che si trascina oramai da tantissimi anni. La cosa triste è che la magistratura onoraria, nel modo particolare i giudici di pace di cui io faccio parte, amministra gran parte della giustizia di prossimità, di vicinato e che quindi è vicina ai cittadini ma nello stesso tempo non ha alcuna tutela. Per cui nei momenti in cui non si lavora non si guadagna. Le donne sono penalizzate perché anche nel caso di gravidanza, di maternità questo non è riconosciuto e quindi onestamente la questione diventa veramente difficile e molto molto delicata. A Palermo si è avviata la protesta con lo sciopero della fame. Che cosa vi attendete da questi flash mob che ormai si stanno muovendo un po' su tutto il territorio nazionale? Noi ci aspettiamo di sensibilizzare perché il governo da anni sta promettendo una riforma che però non arriva o che comunque prevede delle questioni peggiorative rispetto alla situazione che noi viviamo in maniera attuale. E quindi quello che ci aspettiamo è che ci sia dato il riconoscimento del lavoro che facciamo. Oramai siamo la classe dei più precari che esiste in Italia e lavoriamo in un settore delicato, in un settore importante e quindi quello che ci aspettiamo è che i nostri diritti vengano riconosciuti.